allora ciao ragazze ciao a tutti e tutti nuovo video che riccio come state anzi buonanotte perché tra un po me curgo come va scusate se non ho fatto oggi il video però non mi andava era un momento per me quindi non ho fatto il video del della palette che sarebbe questa qua ve l'ho promesso che faccio il video sulla palette ma al momento non me la sono sentita perché sono troppo stanca non so cosa succede però veramente sono stanca quindi vediamo un po ce la faccio a farvelo in questi giorni il video della palette di pupa perché me l'avete chiesto in tantissime in tantissime sì in tantissime e quindi ho inteso di fare un video nel cap dove provo sta palette e anche le spugnette che sono di là e niente ragazze io vi auguro una buona notte e un buon sonno a tutti voi e ci vediamo o domani o dopo domani domani sera non credo perché sarà altro momento no come sempre non so cosa mi sta succedendo ma è un periodo un po di gne 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 di non è bello per me e quindi voglio recuperare un po e tornare a fare video così non perché li voglio fare per guadagnare chissà cosa youtube non ne può credere meno o per come creano altri una manciata di like non me ne può credere meno sì ovvero i like sono importanti ma è importante divertirsi e intrattenere se riesco a intrattenere se no pace non fa niente comunque niente ragazze questo era un video per parlare un po con voi e per dirvi che mi scuso se non sono riuscito a fare oggi il video che aspettavate tanto e quindi nulla a ps lo so che non mi dovevi esclusare ma perdonatemi anche per la vista come sono io sembro una pagliaccia o ancora peggio un no vabbè non sono in ordine però sappiate che per quel motivo mi sto facendo il mio skin care più cose quindi ecco perché non sono truccata sto skincherando mi sto ripulendo tutto il viso facendo la pulizia viso quindi ecco il motivo nel perché sono stra come si può dire stra finalmente si dove ci sono capiti sono stra truccatissimi tutto quanto che non c'è verso il trucco comunque da qui in avanti vedete col trucco o farò video di trucco comunque ciao buonanotte e a presto grazie ancora per l'ascolto ciao